Una buona giornata a tutti dalla redazione di Trebimeteo.com. Quest'oggi la cronaca meteo ci porta nel sud della Francia dove un alluvione lampo interessato soprattutto le zone a nord di Montpellier colpito un campeggio dove si contano 5 vittime. Violenti temporali che hanno scaricato in poche ore anche fino a 100-150 mm di pioggia. Possiamo vedere queste drammatiche immagini da un centro cittadino nel sud della Francia. Guardate il fiume in piena che ha trascinato fino a valle alberi anche di enorme taglia. E poi si possono vedere anche alcune autovetture. Passiamo poi alla seconda foto. Guardate questo centro cittadino sempre nel sud della Francia allagato da quasi 20 cm di pioggia. Enormi temporali che si sono formati durante il pomeriggio e la serata di mercoledì. Guardate questi enormi emassi temporaleschi che hanno colpito soprattutto la zona a nord di Montpellier. Qui abbiamo il Golfo del Leone e qui la Costa Azzurra e come abbiamo detto poco fa anche fino a 150 mm di pioggia. Quindi il terreno a fatica è riuscito a assorbire tutta questa quantità d'acqua. Siamo qui per parlarne con il nostro esperto Francesco Nucera che ci spiega brevemente cosa è successo in Francia in questi ultimi giorni. Diciamo che si tratta di una situazione per il Mediterraneo e soprattutto per la Francia piuttosto instabile e potenzialmente pericolosa perché si possono generare dei fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. Si tratta di una configurazione sinottica che vede il fronte nuvoloso principale molto lontano dalla situazione tra il nord della Francia e l'Atlantico. Mentre le manifestazioni temporalesche prendono vigore proprio in questo canale instabile dovuto a questo flusso di aria piuttosto instabile e calda che proviene dal nord Africa. Quando c'è questo filamento di aria piuttosto calda allora la situazione va monitorata perché possono formarsi fenomeni temporaleschi non soltanto alimentati appunto da questa corrente calda e umida ma anche dalla presenza della corrente getto. questo flusso piuttosto teso in quota che non fa altro che inasprire, dare manforte quindi energia alle manifestazioni temporalesche. Ecco questo è un esempio molto semplice dove appunto la corrente getto dà ulteriore enfasi diciamo energia al temporale. Diciamo che la corrente getto si comporta come una specie di aspirapolvere, preleva quest'aria piuttosto calda e umida violentemente e poi la presenza appunto di questo vento non fa altro che far degenerare queste strutture temporalesche che possono anche assumere quella caratteristica piuttosto a larga taglia che hai fatto bene evidenziare tu nell'immagine satellitare. Brevemente questa circolazione depressionale nelle prossime ore si sposterà verso est quindi a rischio il nord ovest e l'alto terreno, giusto? Sì, diciamo che c'è questo canale instabile che dalla Francia raggiunge il nord Italia probabilmente anche le nostre regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni localmente temporalesche però non dovremmo avere le caratteristiche con questi temporali di forte intensità come si sono verificate sulla Francia. però c'è la possibilità che qualche focolario temporalesche possa risultare intenso soprattutto tra Ligure di Levante e il nord della Toscana. Quindi situazione monitorata nelle prossime ore, Levante-Ligure e Medioalta-Toscana. Noi siamo qui, vi aggiorneremo nelle prossime ore sempre sul sito www.3bimeteo.com Grazie a tutti.